Siamo qui a Bruxelles nello stand della regione Campania per presentare le eccellenze che il nostro distretto esprime. Il distretto CIS Interporto Vulcano si sviluppa su 5 milioni di metri quadri, ha mille aziende, 9 mila addetti e circa 15 milioni di visitatori l'anno. Il CIS Interporto Campano rappresenta un sistema integrato, leader nel commercio B2B, nella logistica, nei trasporti e nel retail attraverso le tre realtà che sono il CIS Interporto Campano e il Vulcano Buono. La struttura che si può vedere anche in questa foto ha una vocazione internazionale già dalla nascita con l'Interporto. Naturalmente abbiamo una visibilità internazionale, siamo il settimo interporto d'Europa, abbiamo connessioni con tutto il mondo e quindi dobbiamo favorire lo sviluppo delle nostre mille aziende a livello internazionale. Grazie a queste iniziative che vengono realizzate dalla regione Campania abbiamo questa opportunità di girare l'Europa e il mondo perché la nostra realtà, eccellenza nel sistema logistico commerciale distributivo, ha necessità di interagire con operatori internazionali.